saluta già contento anche io ma la vita la sorpresa su salami ma mica mi ha detto che stasera c'è una sorpresa io andavo a piedi all'escalvo e senti quella vita la parte no ma andavo a vedere sei contento? e ci credo ma non mi fa ma non mi fa ma non mi fa ma non mi fa urlare ma non mi fa ma non mi fa scendo del letto ma non mi fa ma non mi fa ma non mi ha scappato c'è Cristo con l'onda energetica st'attento mannaggia Cristo aspettavi questa? io sento poco non te l'aspettavi questa? ma come l'aspettavo? si è andata via che non è tanto ma lì ci avveneremo alla fine del mese ma che felice va via scemo che bella sorpresa oh che bello si può stare di qui ruono fai il rispezzo e forse ma te sto a senti sto a senti una cosa ma tu non senti niente raccontaci una storiella oh scomincia una storiella si la storiella del pollo che si andava mannaggia il ruolo che si andava mannaggia il ruolo di strana ma via la storiella ma via sa chi è lui? è un figlio migliore perché? 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 e perché? 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 ah perché? perché? non mi dici perché? allora dormi